Amici telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza a fatti e commenti, con noi Gaetano Alaimo. Bentornato Stefano, un saluto a tutti i telespettatori a casa. Bene, e con lui approfondiremo un po' le tematiche di questa settimana che ci apprestiamo a concludere. È stata caratterizzata questa settimana dalla pubblicazione della classifica, se così possiamo dire, delle città e delle province effettuata dal Quotidiano Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma. Viterbo, lo anticipiamo, si è classificata al 63esimo posto, diciamo una posizione un po' interlocutoria. Ricordiamo i requisiti, gli elementi di valutazione, gli affari, il lavoro, servizi finanziari e scolastici, turismo tra le altre cose, oltre che giustamente la situazione ambientale. Ecco Gaetano, una valutazione, abbiamo parlato di speranza e stagnazione di questa posizione di Viterbo. Sì, grazie di nuovo, buonasera. Il titolo, l'ho fatto io personalmente, rappresenta almeno a mio giudizio quello che è il quadro generale dell'analisi che Italia Oggi, in collaborazione appunto con l'Università La Sapienza di Roma, ha effettuato su nove macroindicatori che appunto rappresentano, con sottovoci a loro volta, tutti i settori della qualità della vita quotidiana analizzata per il 2015, lo ricordiamo. Viterbo perde una posizione, se non sbaglio, quindi rimane stabile al 63esimo posto. Io punterei più su un discorso di delusione che di positività per quanto riguarda le analisi. Ho puntato più che altro in un sunto sulle voci stesse, ricordo che Viterbo, se si esclude il settore dei servizi finanziari scolastici dove è 52esima e soprattutto il settore del turismo, in particolare annesse e connessi, che è intorno alla 35esima e 36esima posizione, ha tutte posizioni dalla metà in giù, quindi a livelli del sud. Questa è un'analisi un po' impietosa perché i servizi principali come sono per esempio l'ambiente, come sono la vivibilità delle città, la sicurezza eccetera, sono con segno negativo rispetto all'anno scorso. Questo è un po' un quadro abbastanza preoccupante, diciamo con l'abbastanza davanti alla parola preoccupante perché Viterbo ha passato degli anni abbastanza difficili, ricorderei l'emergenza di fiuti di questi ultimi anni, quindi la difficoltà di far partire una raccolta differenziata ai livelli del centro nord. Ricordo anche che l'unica città veramente nelle prime posizioni del centro Italia è Siena, quindi si conferma Siena sia per quanto riguarda la qualità della vita, ma anche per il verde pubblico e tutto ciò che riguarda la salute e soprattutto il sistema sanitario, questo è un altro punto dolente per Viterbo che è nelle basse posizioni, si rappresenta l'unica città del centro Italia, della Toscana che compete con le prime città del nord. Ricordo solo per dato che dopo cinque anni, se non sbaglio, dal 2011 Trento è stata scavalcata da Mantua come prima città italiana per la qualità della vita, addirittura con un punteggio di mille che era il punteggio massimo. Sì, vorrei aggiungere a quanto diceva Gaetano che recentemente la Regione Lazio ha posto in essere diversi provvedimenti che riguardano la qualità dell'aria. Lo sappiamo che l'ambiente, in particolare l'inquinamento, è uno degli elementi che dopo gli accordi di Parigi stanno portando avanti le regioni italiane e in collaborazione con i comuni, proprio per rendere sempre migliore la qualità dell'aria. Quindi c'è stato da parte della Regione Lazio una serie di provvedimenti che riguardano la mobilità sostenibile, l'acquisto di nuovi mezzi cotral, quindi meno inquinanti, ci sono effettivamente 349 bus che stanno globalmente entrando in funzione, il rilancio del trasporto su ferro, quindi gli acquisti di treni in collaborazione con Trenitalia e si prevedono la rigenerazione di 46 treni ad alta frequentazione e l'acquisto e la messa in opera di 114 nuove carrozze Vivalto. Poi sempre il potenziamento della rete ferroviaria insieme al governo e a Trenitalia e abbiamo appunto i provvedimenti che riguardano la Roma Viterbo, quindi dei provvedimenti che servono a migliorare il servizio su questa linea ferroviaria. Ecco, oltre a questo elemento diciamo che i nostri centri storici si avviano, siamo vicini al Ponte dell'Immacolata e si avviano a offrirsi per le festività natalizie. Sappiamo che il Viterbese è stato sempre valutato come un insieme di paesi presebio, quest'anno appunto ne avremmo veramente molti in tutti e 60 i comuni appunto della provincia. Un elemento fondamentale è la rivalutazione del commercio nei centri storici. Sappiamo che proprio in questi giorni, e questa è la domanda che volevo fare a Gaetano, si inaugura la via dello shopping serale proprio a via Saffi, se non va a terrato a Viterbo. Ecco, ce ne vuoi un po' parlare di questo fenomeno? Sì Stefano, esattamente stasera noi registriamo nella giornata del primo dicembre giovedì, è inaugurata questa sera, poco dopo questa registrazione, la via dello shopping. È un risultato molto importante perché via Saffi a Viterbo ed è attualmente una delle vie che ha subito maggiormente la chiusura cosiddetta della serranda per quanto riguarda la crisi economica. Circa la metà delle attività, anche di più, fino ad oggi sono rimaste chiuse perché o hanno fallito o comunque non hanno preferito continuare l'attività. È un'attività che attraverso, poi daremo maggiori dettagli una volta avuto informazione appunto sulla conferenza stampa, a regime, come dicevano anche i giornali oggi, dovrebbe dare circa nuovi 60 posti di lavoro, che per Viterbo sono tanti. Un centro storico, quello di Viterbo, che fortunatamente non ha semplicemente delle manifestazioni date per una settimana, dieci giorni, l'estate o l'inverno, ma anche un risvolto economico vero, come è quella appunto la via dello shopping che tu giustamente hai citato come rilevanza di notizia, che non solo ha degli svolti per determinate singole associazioni o entità, ma si espande a tutte le attività commerciali, le piccole attività commerciali, che lo ricordo con l'ulteriore sviluppo della tangenziale Ovest di Viterbo, con nuove attività che giustamente sono nuovi posti di lavoro futuri per altre persone, per carità. Però si rilancia anche il centro storico di Viterbo, quindi non solo più con degli eventi, se non fine a se stessi, molto limitati nel tempo, ma con un'attività economica che poi rilancia veramente il centro storico stesso. Sicuramente, volevo completare quanto diceva Gaetano, col fatto che la Regione Lazio ha avviato dei provvedimenti, la valorizzazione di alcuni progetti di valorizzazione commerciale, le cosiddette strutture a rete, gli ex centri commerciali naturali e sappiamo che in molte città, molti centri storici, aggregazioni di commercianti dei centri storici, hanno partecipato con iniziative specifiche a questo bando che finanzierà appunto degli interventi di riqualificazione dei centri storici e dell'arredo urbano. Ecco, un altro elemento importante è l'attenzione che viene data da parte a livello, diciamo, di televisioni nazionali ai nostri centri storici. Sappiamo in questi giorni, in questo fine settimana, verrà messa in onda la trasmissione ricette all'italiana di Rete4 con Davide Mengacci che ha fatto visita ad Orte, ha fatto una visita golosa, l'abbiamo definita sul nostro giornale New Tusha e proprio perché è servita a valorizzare quelli che sono i prodotti tipici appunto che la Teverina, diciamo che la Valle del Tevere e Orte in particolare può dare. Pensiamo a tutta la parte del carciofortano, dei salumi, delle carni e soprattutto anche della parte appunto che riguarda i dolci e i vini. A questo appunto proposito, questo fine settimana si svolgerà la seconda parte appunto di Orte in Cantina. Ecco, Gaetano, questa attenzione un po' da parte delle televisioni nazionali verso i nostri centri storici. Allora, solo per informazione ricordo che ultimamente o per un motivo o per un altro la provincia di Viterbo è sotto i riflettori delle televisioni nazionali, in questo caso parliamo giustamente di Orte con ricette all'italiana, con il famosissimo Davide Mengacci che è uno dei personaggi se non è più conosciuto tra i più conosciuti appunto sempre su Rete4, se non mi sbaglio lui sono da tanti anni che fa. Per altri motivi ricordo anche le trasmissioni per altri appunto legati per esempio al tema dell'immigrazione, Tarquini è andata più volte sulle reti Mediaset, altrettanto, e anche per altre motivazioni ricordo anche Felice Arletti che è ormai molto noto, uno dei personaggi più noti ormai di Canepina con il famoso Fieno Canepinese che è andato addirittura su Rai News 24. Quindi è un periodo che, questo è molto importante a mio giudizio perché le produzioni tipiche che sono certamente uno dei fiori all'occhiello della nostra provincia, Orte ma anche appunto tutta la zona dei Cimini, mi hanno in mente anche Canepina, tutto il bacino dei laghi eccetera, che si sono finalmente fatti conoscere in panorami nazionali. Questo, e vado a chiudere, è un merito di giovani che stanno investendo su loro stessi, che credono appunto nelle proprie capacità e che lanciano i propri talenti nel settore dell'enogastronomia, quando invece normalmente si dice che spesso questo è un settore che non tira più, come si dice in gergo, in realtà non è così. Sì, ecco, io concluderei, se Gadano è d'accordo, questa nostra breve rassegna che vogliamo fare sempre per voi ascoltatori e con l'invito, ecco, sapete che questo fine settimana è caratterizzato dalla consultazione referendaria, quindi saremo chiamati a votare. Noi, ecco, non possiamo che invitarvi, secondo le motivazioni che vi siete fatti come cittadini, sovrani, in questo periodo ad andare a votare, secondo le vostre convinzioni, secondo l'idea che vi siete fatti in questa lunga campagna elettorale che ha caratterizzato appunto il quesito referendario. Ecco, Gaetano, anche te una valutazione su questo? Sì, noi ovviamente anche per motivazioni rilevanti di legge ci limitiamo a dire che la partecipazione al voto, dopo tanto tempo, lo ricordiamo, che non avviene, esclusa ovviamente le elezioni amministrative, è un diritto dovere del cittadino, cioè il cittadino votante è la base della democrazia costituzionale, parliamo ovviamente di riforma costituzionale, se non si va a votare è proprio già un paradosso rispetto alla stessa Costituzione italiana, quindi andiamo a votare, poi ognuno voterà quello che crede. Bene, ecco, io ringrazio Gaetano, ringrazio i telespettatori e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Buonasera a tutti.